Un caro saluto a tutti quanti, ragazzi faccio subito una super premessa iper rapida Come vedete i contenuti li sto distribuendo in modo assolutamente frammentario Uno ogni tanto eccetera eccetera Purtroppo ragazzi mi sto collaborando, cioè purtroppo nel mio caso fortunatamente Ma collaboro sempre di più con Gearserf.it Dove in descrizione trovate questo stesso video e collaborazione anche con questo tipo di testata Spammerò un po' anche i loro contenuti Nel senso che li faccio per loro e quindi anche più senso che anche questo portale, canale eccetera eccetera Possa essere un po' un trampolino di lancio per quello che comunque faccio anche per loro Il che non significa che non farò più nulla solo per questo canale Anzi ho già un po' di roba che devo fare, trasmettere eccetera eccetera Però dall'altra parte voglio veicolare principalmente anche loro Dato che comunque sono pagato e lavoro per questo tipo di testata Per la quale peraltro ci tengo anche tantissimo Fatta questa premessa, seconda novità che riguarda invece il modo di presentare videogiochi leggendari I libri ragazzi li farò un po' tutti Riparto anche con Silent Hill Cercherò di farli sicuramente non all'uscita Lo farò giorni dopo, dopo che avrò letto i libri E ovviamente poi recupererò anche quelli precedenti Tre libri precedenti che sono già stati fatti, trattati eccetera eccetera Ma li riprendiamo Però farò il contrario, cioè non saranno ordinatissimi Poi mi riallinerò e poi tornerò a fare sicuramente un video a settimana per ogni libro Però ragazzi sto cercando anch'io, come ho detto prima, di barcaminarmi Allora partiamo con Silent Hill E come dicevo appunto non faccio recensione e unboxing Ma soltanto quella parte qua Allora partiamo con Eccole qua I video Questo ragazzi è Silent Hill 1 Fantastico, mega galattico Super top Silent Hill 2 Guardate quanto è bello Silent Hill 2 Di cui peraltro sta per arrivare un remake Indipendentemente da quando voi vedrete questo video È da circa un anno Che si parla del remake di Silent Hill 2 Come lo faranno, se lo faranno Qua c'è Silent Hills Il gioco mai uscito Chissà come sarebbe stato fantastico Di Hideo Kojima E non Kojima Come la maggior parte delle persone invece dicono E c'è tutto Insomma tutta una sorta di spiegazione in situazione Di quello che è Il gioco Ma andiamo a vedere invece La parte di Indice Perché ne parleremo attivamente anche Di questa cosa Allora Qua mi piace tantissimo Perché c'è il team Silent Il Silent Sono il team principale Di Konami Team soprattutto Orientale Giapponese La parte appunto Che si è occupata Dei capitoli principali I giochi Che secondo me Sono stati tutti bellissimi Io li ho giocati tutti E mi hanno fatto Ad assolutamente impazzire Non tutti quanti Però sicuramente Sì Il primo Stragiocato Silent Hill Fantastico Gioco che mi aveva Letteralmente fatto impazzire Il secondo Silent Hill 2 L'ho giocato Sulla prima Xbox Tra l'altro Aveva anche l'espansione Qui tra l'altro Ne parlano E purtroppo Li ho venduti Non mi dispiacerebbe Recuperarli Più che altro Perché Silent Hill Valicchia abbastanza Tra l'altro Io ce l'ho anche Come demo All'interno di Metal Gear Solid Tra l'altro All'interno di questo volume Parlano del fatto Che la demo È stata distribuita Solamente nella versione Orientale Insomma La versione Giapponese Di Metal Gear Solid Ma non è vero Perché anche nella nostra Chi lo ricorda Ricorderà Che Metal Gear Almeno sulle prime distribuzioni Aveva dentro Silent Hill Almeno Io ce l'ho Immagino La maggior parte di voi Che hanno quella coppia Playstation Silent Hill 2 È comunque stato il gioco Che ha trasformato Il concetto di horror Psicologico Ma più che altro L'interiorizzazione Dell'horror La Vedere Vivere l'horror In un videogame Che non era semplicemente Vado in giro C'è il mostro Lo uccido Ma è proprio La paura Di ciò Che non si vedeva Cioè La concretizzazione Per assurdo Dire concretizzazione Di Di ciò Che non si vedeva Che faceva più paura Di ciò Che invece Palesemente Si vedeva In contraposizione Con Resident Evil E il concetto stesso Di survival horror Silent Hill 3 4 Adesso non entro Nei dettagli Ma comunque Qua se ne parla Ampiamente Sono stati fatti Comunque molto bene Anche come parte Diciamo così Di sviluppo Ed è interessante Questa Questa parte In cui appunto Sviluppano per bene La creazione Del gioco Il fatto che appunto Non credessero assolutamente Nel gioco Quando uscì Invece Ebbe un super successo I pezzi da 90 Che hanno appunto Portato questo gioco Perché comunque Era gente Per cui per quanto Appunto Konami non ci credesse Tantissimo all'inizio Aveva dentro Comunque Dei grandissimi Sviluppatori La parte che comunque Devo dire Conosco meno E che forse Cioè Non che mi interessi Di più Ma banalmente Anche la parte Degli spin off Comunque Di tutti Gli altri sviluppi Di Silent Hill Che ci sono Qua dentro Sono stati interessanti Proprio perché Non tutti li ho giocati Non tutti mi interessavano E non tutti mi interessano Tuttora Però sicuramente Sono anche loro Parzialmente Silent Hill E quindi Un pezzo di un puzzle Interessante Da andare a vedere Conoscere E leggere Sicuramente Tra tutti Ho giocato Shutter Memory Su Nintendo Wii Che è stato un gioco Incredibile Anche perché La possibilità Di utilizzare il telecomando Ricordo per esempio C'era una lattina Dico sempre questa cosa Perché Mi era piaciuta Particolarmente E La lattina Bisognava girarla Quindi giravate Essenzialmente Il telecomando La lattina Si girava E cadeva la chiave Ecco Scoprire questi dettagli Fatti in questo modo Mi hanno fatto Letteralmente Impazzire Poi si parla di PT Silent Hill Quello che avrebbe potuto essere E quello che appunto Non c'è Il futuro del franchise In cui ovviamente Come avete visto Dall'immagine Dalle foto Quindi non mi sto facendo spoiler Si parla anche di PT Barra Silent Hill Di Di Kojima Anche perché da sempre Silent Hill Già dal 2 Erano un po' Le Silent Hill Cioè quella vecchia Quella nuova Cioè c'era proprio un pochino Di atmosfera Di cose Situazioni Che erano Un po' Particolari Ecco Francamente Non mi è piaciuta La copertina Nel senso che Cioè Se avessi visto questa Ha tolto il titolo Mi avessero chiesto Che cosa è Io vi dico Vabbè francamente Non ci sarei mai arrivato Non è l'unica copertina Ma anche se tendenzialmente Devo dire Sono quasi tutte fatte bene Però alcune veramente È stato un lavoro Un po' Frettato Qua probabilmente C'erano mille cose Che avrebbero potuto Far vedere Che cosa per me È Silent Hill Beh ci piazzavate Pyramid Head In versione Super pixelata Non c'è altro mostro Che meglio rappresenti Quello Mi fate vedere Un'infermiera Super pixelata Con Un coltello Senza faccia Eccetera eccetera Ma la fate super pixelata Vi avrei detto immediatamente Silent Hill Tutto il resto Quella roba qua Boh francamente Non mi dice Nulla Ma sono curioso Di sapere voi Che cosa ne pensate E ovviamente Vi do I miei saluti Spero Insomma Che continuate A seguirmi Sempre di più Io vi auguro Buone cose Alla prossima E ciao